benvenuti a tutti mi è capitato su richiesta di creare un pulsante che copiasse quello che è contenuto all'interno di una casella di testo in questo caso una preparazione di una ricetta vedete anche un testo anche abbastanza lungo e quindi di copiarlo in un report ma anche in file esterno guardate adesso vi faccio vedere qui abbiamo il nostro pulsante copia quindi copio ecco qua che in questo caso si è aperto il mio report e incollato tutto quello presente dentro la casella dentro al nostro report questo possiamo poi stamparlo oppure creare altre possibilità quindi adesso chiudo e se vi faccio vedere anche questo quest'altro pulsante che non farà altro che copiare sempre quello contenuto all'interno della nostra casella però aprendo il nostro bloc note quindi andiamo qui premiamo ecco qua vedete si è aperto il nostro bloc note di window anche qui andiamo a copiare il tutto quindi andiamo a vedere i vari codici non salviamo e cominciamo naturalmente dal nostro report per prima cosa ho creato il report eccolo qua andiamo in struttura un report naturalmente vuoto il pulsante stampe il pulsante chiudi poi vedete ho inserito una casella di testo e qui andiamo a vedere è stata denominata ecco qui incolla poi chiudiamo andiamo invece qui nel nostro pulsante sempre i nostri tre puntini evento apriamo ed ecco qua il nostro codice per prima cosa cosa dobbiamo fare dobbiamo con set focus vedete inserirci posizionarci all'interno della nostra casella da dove vogliamo copiare i nostri dati quindi la nostra casella in questo caso si chiama preparazione ma è punto preparazione punto set focus e quindi ci inseriamo dentro poi andiamo a copiare tutto quello che inserito dentro vedete con il nostro commando command ac cmd copy dopodichè andiamo aprire il nostro report che in questo caso è stato chiamato rpt in colla quindi lo apriamo ci posizioniamo sempre con il set focus all'interno della casella dove vogliamo copiare i nostri dati e quindi in questo caso si chiama la casella si chiama incolla e poi con il nostro comando andiamo a salvare poi andiamo a spostare il nostro focus questo poi ve lo spiego dopo il perché quindi avete capito è tutto abbastanza molto semplice quindi set focus ci posizioniamo copiamo e andiamo aprire il nostro report e incolliamo nella casella dove vogliamo appunto copiare i nostri dati e questo è il procedimento per quanto riguarda un report questo comando qui in fondo cioè lo spostamento del focus è perché guardate se ve lo faccio vedere quindi tolgo via allora chiudo poi riapro andiamo di provare ancora proviamo sempre un altro questo qua per esempio copiamo ecco qua vedete che è stato copiato chiudiamo se adesso li faccio copia vedete che non succede niente perché il focus è rimasto qui e quindi dobbiamo cambiare per forza il focus quindi torniamo nel nostro struttura e riposizioniamo il focus in qualsiasi parte io l'ho inserito in una casella dove appunto andiamo a inserire il titolo della nostra ricetta e qui possiamo chiudere e se andiamo a vedere quest'altro che quello per aprire il nostro blocco note di windows e qui adesso andiamo a vedere una cosa un po' particolare allora guardate andiamo a vedere il nostro codice eccolo qua quindi andiamo sempre con set focus all'interno della nostra casella da copiare poi copiamo tutto quello che c'è all'interno poi con questa istruzione vba andiamo a aprire il nostro blocco note di windows e poi ci inseriamo dentro vedete sempre qui con il nostro focus guardate qui abbiamo il comando send key cioè praticamente cosa andiamo a fare voi sapete benissimo che se noi andiamo a copiare un testo con ctrl c poi lo possiamo incollare in qualsiasi altra parte con ctrl v quindi simuliamo la pressione di questi due tasti vedete con il comando send case e poi tra virgolette dobbiamo inserire l'apice in alto che vuol dire che la pressione del tasto ctrl e poi il tasto v e quindi in questo modo noi andiamo a copiare a incollare scusate e poi andiamo a sforzare come abbiamo visto prima il nostro focus appena posso poi pubblicherò un tutorial per quanto riguarda questo comando cioè send case però ricordatevi e so già da adesso che per esempio qui per simulare la pressione del tasto ctrl dobbiamo inserire l'apice qui su in alto altrimenti col più possiamo inserire la maiuscola e con la percentuale il tasto alt quindi tutto questo è tutto andiamo a vedere riproviamo quindi maschera e poi qui il nostro pulsante copia eccolo qua vedete che si apre il nostro blocco note e poi viene incollato tutto quello che è presente dentro la nostra casella questo naturalmente è un semplice esempio ma possiamo trovare varie possibilità di copiare il nostro testo in un'altra maschera o in qualsiasi altra posizione del nostro database bene vi saluto e ci vediamo a questo tutorial arrivederci grazie